salve a tutti amici carissimi dopo circa due settimane di assenza sono qui a presentarvi una mia prossima videoesposizione a New York dal 31 agosto al 3 settembre precisamente nella White Space Chelsea Gallery durante la premiazione del premio città di New York la mia partecipazione vede protagonista nella videoesposizione l'opera i colori della danza un dipinto del 2019 fondo lavagna acrilico e gocce di perla su legno 60x60 è stato esposto anche a Dubai e si trova nel catalogo del premio internazionale di New York è stato anche dedicato una poesia scritta e recitata dalla poetessa Anna Maria Faricelli trovate il video sul mio canale youtube Daniela Bussolino artista con il titolo i colori della danza quest'opera con il movimento dei ballerini trasmette gioia e allegria data anche dai colori vivaci con cui è rappresentata sembrano quasi voler uscire prenderti per male per portarti un mondo dove esiste solo la spensieratezza e la storia di vivere anche per oggi è tutto prossimamente ci sarà una mia mostra personale virtuale nella mia galleria la Crystal Gallery vi ringrazio e vi saluto a presto ciao 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 Questo è il catalogo personale premio internazionale città di New York con altre due mie opere Disco Inferno sempre dedicata al ballo e Profumo d'India dedicata alle donne Grazie per la visione